buongiorno da obiettivo news oggi 20 dicembre san liberato martire oggi si celebra la giornata mondiale della solidarietà umana istituita dall'assemblea generale delle nazioni unite nel 2005 che identifica la solidarietà come uno dei valori fondamentali e universali che dovrebbero essere alla base delle relazioni tra i popoli la data coincide con la creazione del fondo di solidarietà mondiale avvenuto il 20 dicembre 2002 l'obiettivo del fondo entrato in vigore nel febbraio 2003 è quello di eliminare la povertà e promuovere lo sviluppo umano e sociale nei paesi di in via di sviluppo in particolare tra le fasce più povere della popolazione la solidarietà identificata come uno dei valori fondamentali universali e protagonista della cosiddetta dichiarazione del millennio sottoscritta dai leader mondiali per contrastare le ingiustizie di carattere economico sociale culturale o umanitario